Intorno alla vicenda Salvini, alla fine Napoli non è uscita proprio bene, ma è soprattutto il suo sindaco in queste ore ad essere sulla graticola, da più parti indicato come il principale fomentatore dei disordini che si sono poi verificati ieri all'arrivo del leader della Lega. E dopo la guerriglia, le pietre, i feriti, De Magistris prende le distanze dai violenti. Le immagini finali feriscono la potenza politica di quella manifestazione, dagli alti contenuti democratici, prendo le distanze dai violenti che non incarnano lo spirito pacifico della città che io rappresento, ha detto il sindaco, che poi accusa. Le responsabilità non sono mie, ma di chi non ha voluto ascoltare il messaggio di buonsenso di questa amministrazione. E ritratta. Noi non abbiamo mai detto no Salvini a Napoli, abbiamo solo espresso la contrarietà ad un'iniziativa assolutamente inopportuna in un luogo dell'amministrazione, di un esponente politico che si è distinto per apologia del fascismo, atteggiamenti xenofobi e razzisti. Ma qualcuno non ha voluto sentire ed ha alzato a dismisura il livello dello scontro, ha aggiunto De Magistris, che però ribadisce. Salvini avrebbe potuto benissimo fare la sua propaganda in un altro luogo privato. Non ci sarebbe stata l'imposizione nei miei confronti, che ho solo difeso la mia città. Di fatto però la città non ha ricevuto da tutta questa vicenda una buona pubblicità. Al contrario, non solo nella sfida tra gli opposti populismi, il sindaco di strada nella veste del rivoluzionario che agisce nel nome del popolo, ha clamorosamente fallito la strategia politica, servendo la partita su un piatto d'argento al suo rivale Salvini. Il leader del carroccio non solo ha guadagnato una grande, insperata visibilità, ma addirittura oggi rischia di apparire come un martire della democrazia. Finché si trattava di cortei, striscioni e canzoni contro Salvini, Napoli avrebbe conservato l'immagine di città aperta e indipendente, ma quando arrivano le Molotov il discorso cambia. All'odio si è risposto con l'odio e in qualsiasi modo lo si voglia vedere, questo epilogo è una sconfitta di tutti.